E i nucio, spiriti protettori che si incarnano su chiamata dello sciamano, nelle figurine de lui scolpite, ricevano dello sciamano con l'invisibilità e la veggenza alcune niga, vitalità, resistenza, che li rendono nelegan, che è il plurale di nele, cioè per il servizio degli uomini, esseri a immagini degli uomini, ma dotati di poteri eccezionali. Quel canto, nel modo sommario con cui è stato riassunto, sembra seguire un modulo alquanto banale. Il malato soffre perché ha perduto il suo doppio spirituale, o più esattamente uno dei doppi particolari il cui insieme costituisce la sua forza vitale. Lo sciamano, assistito dai suoi spiriti protettori, inizia un viaggio nel mondo soprannaturale per strappare il doppio allo spirito maligno che l'ha catturato e, restituendolo al proprietario, ne assicura la guarigione. L'interesse eccezionale del nostro testo non consiste tanto in questo assetto formale, ma nella scoperta, resa possibile dalla semplice lettura, ma per cui Olmer e Wasson meritano tuttavia piano maggio, che Muigala, ossia la strada di Mu e la dimora di Mu, non sono, per il pensiero indigeno, un itinerario e una dimora mitici, ma rappresentano letteralmente la vagina e l'utero della donna incinta, che lo sciamano in ucio esplorano e nelle cui profondità disputano la loro vittoriosa battaglia. Questa interpretazione si fonda innanzitutto su un'analisi del concetto di purba. Il purba è un principio spirituale diverso dal niga, sopra definito. Al contrario del primo, il secondo non può essere sottratto al suo possessore, e solo gli uomini e gli animali ne sono dotati. Una pianta, una pietra, hanno un purba ma non hanno niga, così pure per quanto riguarda il cadavere, mentre nel bambino il niga si sviluppa solo con l'età. Sembra dunque che si possa, senza eccessiva inesattezza, tradurre niga con forza vitale e purba con doppio anima, tenendo però ben presente che queste parole non implicano una distinzione fra animato e inanimato, perché per Icuna tutto è animato, ma corrispondono piuttosto alla nozione platonica di idea o di archetipo, di cui ogni essere o oggetto è la realizzazione sensibile.